Bene, oggi vi parlerò dell'abdaction, i rapimenti dei terrestri da parte delle creature extraterrestri. Ciò avviene proprio perché la vita soprattutto si è sviluppata all'interno dei pianeti, non all'esterno. Quindi le razze extraterrestri stanno creando nuove razze su altri mondi, su altri pianeti, in altri sistemi stellari, all'esterno dei pianeti, dove c'è meno acqua, praticamente più luce, quindi c'è meno umidità e quindi sarebbe difficile per loro procrearsi su quei pianeti, perché loro derivano soprattutto dagli anfibi, dagli esseri anfibi. Per creare queste nuove razze quindi scelgono noi da creare, praticamente tra noi e loro, creare delle nuove razze. Ecco perché vengono a rapire gli umani. Però lo fanno fin di bene proprio per creare nuove razze, nuove razze modello, quindi cose positive e cose buone. Quindi dobbiamo appunto vedere questa bontà degli extraterrestri. È dura, è difficile capacitarci su questa cosa, però c'è questa cosa positiva che voglio appunto divulgare, c'è questa cosa positiva che è proprio la creazione di nuove razze proprio per cose positive, per nuova vita.